Lo scontro sui rifiuti in Irpinia entra nel vivo. Tra Ato, provincia e comune capoluogo, il destino della società provinciale Irpinia Ambiente che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti è al centro di una battaglia politica tra il sindaco Gianluca Festa e il presidente Buonopane. In discussione le scelte tra gestione pubblica e mista con la creazione del subambito distrettuale in città, ma anche le tempistiche e i costi per chiudere il ciclo integrato. La prossima settimana il sindaco di Avellino riceverà la notifica del debito che ha nei confronti di Irpinia Ambiente, un atto ufficiale annunciato dal presidente della provincia che contesta al comune di Avellino un debito da oltre 6 milioni di euro. Intanto sulla vicenda interviene anche Lega Ambiente attraverso il suo coordinatore provinciale Antonio Digisi che mette in guardia Festa dalla scelta di andare avanti da solo sulla gestione dei rifiuti. La scelta del comune di Avellino di distaccarsi dalla gestione provinciale dei rifiuti e quindi del Irpinia Ambiente è una scelta che come Lega Ambiente non condividiamo. Questo perché è una scelta affrettata e una scelta incongruente. Quando parliamo di economia circolare parliamo di contrasto all'emergenza climatica e di lotta alla camurra. In questo caso parliamo di futuro e di giustizia per il nostro territorio. E quando lo scorso mese durante Festa Ambiente con Stefano Ciafani abbiamo parlato di impiantistica ci siamo dati di nuovo degli obiettivi comuni insieme all'amministratore unico di Irpinia Ambiente insieme al sindaco Festa e insieme al presidente del lato rifiuti. Per questo chiediamo al presidente del lato rifiuti Vittorio D'Alessio di convocare un tavolo che comunque possa chiarire la situazione e possa non allontanarci dal principio dell'economia circolare ma possa appunto portare ancora una volta sviluppo per il nostro territorio.